Nel frattempo a Venezia le forze politiche chiedono a gran voce che si apra una commissione d'inchiesta sui tanti affari in corso in città da parte delle imprese coinvolte con la richiesta urgente di bloccare progetti e contratti in odore di sospetto. Lasciamo l'ampia pagina che riguarda il caso Mantovani, andiamo alla cronaca con una raffica di furti in casa, notti di paura nel basso Piave, in un caso addirittura gli inquilini si sono trovati di fronte, i malviventi. Questa non è l'unica notizia, altre anche della provincia. Eccoci di nuovo in studio, riprendiamo il nostro telegiornale da una cosa singolare e curiosa. Accanto agli annunci pastorali i fotogrammi di un furto di una preziosa lampada votiva della chiesa di Carpanedo e sul folietto della comunità l'invito a riconoscere il ladro. Spera in un ravvedimento e nella restituzione dell'arredo il parroco che si è improvvisato sceriffo e promette però nel caso di ritirare la denuncia. Guardiamo. Ed ora una bella storia che ci arriva proprio a dei tempi della crisi. Albino Pilon, dopo una vita da imprenditore, oggi grazie al microcredito ha aperto un negozio di riparazione biciclette in uno degli angoli dimenticati della città. Naturalmente siamo andati ad intervistarlo. Ascoltiamo. Cambio della guardia al vertice della sezione Anna di Belluno. Dopo 11 anni Arrigo Cadore lascia il ruolo di presidente ad Angelo Dalborgo. Tra gli appuntamenti di spicco delle penne nere bellunesi, il raduno della Cadore in programma a settembre. L'anticipazione. Si chiama Coreandoli di Cultura e nel nome racchiude la volontà di colorare una giornata che sarà la prima di una serie dedicata alla promozione dell'accoglienza delle persone con disabilità. Un'iniziativa che porta la firma del collega Maurizio Dorigo che fino all'ultimo, nonostante la malattia, ha fatto crescere assieme i componenti del tavolo della disabilità provinciale. Sentite. Adesso a pochi istanti. Ci fermiamo. Ci sono le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. E invece adesso parliamo di politica. Un nulla di fatto alle camere per l'elezione dei presidenti. Il mancato accordo tra i partiti è il segnale identificativo delle riunioni a Palazzo Madama e a Montecitorio del nuovo Parlamento uscito dalle elezioni del 24 e 25 febbraio scorsi. Molte le facce nuove, tra queste anche quello del neodeputato bellunese Roger De Menek e che la collega Angela Pederiva ha intercettato al suo ingresso a Montecitorio. Vediamo allora le immagini e naturalmente anche l'intervista. Sentiamo. E dopo quattro mesi di attesa e di lavori, il ponte di Soversen ha riaperto la circolazione delle auto. Una liberazione per i cittadini, mentre il sindaco torna a chiedere un nuovo attraversamento sul Piave. Sentiamo e vediamo anche le immagini. È arrivato dalla Confederizia del Veneto. Da oggi invece la battaglia contro lo Stato esattore è partita dal comune di Cortina d'Ampezzo. Basta con queste stangate, sbotta il sindaco Franceschi. Se c'è un modo di far pagare meno tasse, il comune lo adotterà. L'intervista. Queste erano delle immagini che ci fanno capire un po' come avviene questa cosa. Adesso invece ci separiamo. Pochi istanti perché ci sono le previsioni del tempo e speriamo in bene perché ci avviciniamo magari dopo il fine settimana. Tra poco in studio. Parliamo adesso del drammatico calo occupazionale nel settore manufatturiero delle province di Belluno e Treviso. lanciare l'allarme sono le rispettive segreterie provinciali della Cisla che vanno incontro ad un processo di accorpamento proprio per venire incontro alle esigenze appunto dei lavoratori. In quale modo ascoltiamo? Eccoci di nuovo in studio ma solo per i saluti. Il telegiornale è finito. Vi ringrazio. L'appuntamento è per domani. Arrivederci. A proposito di elezione amministrativa a Vicenza, di cui abbiamo appunto sentito poco fa nel servizio, salgono dieci candidati alla poltrona di sindaco, l'ultima a presentarsi Valentina Dovigo. Per la lista civica la città che respira. Manca solo il PDL che non svela le sue carte. Però sentiamo, facciamo il punto intanto della situazione. E ora vi raccontiamo davvero una bella storia. Un sessantenne trevigiano dopo aver perso il lavoro e la casa si era ritrovato. Davvero a dormire sotto i ponti. Poi grazie all'aiuto di una famiglia di Carbonera appunto nel trevigiano ha avuto una seconda possibilità e ora ha anche una nuova famiglia. Noi naturalmente lo abbiamo intervistato. Ascoltate le sue parole. Beh adesso diamo la pubblicità. Tra poco in studio. I carabinieri sgominano una banda di spacciatori che aveva tra i suoi clienti, come dicevamo proprio nel sommario, molti minorenni in servizio. Adesso invece parliamo di politica. Torniamo a parlare della guerra nella Liga Veneta mentre si attendono i provvedimenti nei confronti dei leghisti veneziani. Un ex esponente del carroccio espulso due anni fa racconta ai nostri microfoni proprio le lotte interne al partito e attacca duramente tutti quelli che ora si sentono vittime. Sentiamo allora le interviste. Adesso invece vediamo le provisioni del tempo nel dettaglio. Vi avevamo dato qualche anticipazione. Tra poco in studio. E con questo è tutto. Finisce qua la nostra edizione. Rimanete con noi subito dopo l'edizione di Treviso con Angela Pederiva. Auguri a tutti. Una serena Pasqua. Buonasera.